Ciao a tutti ragazzi, come sempre un saluto da Eric, il vostro Barbaro. Oggi facciamo un brevissimo video introduttivo, infatti stiamo uscendo come extra infrasettimanale perché partiamo con una piccola miniserie, chiamiamola così, su una cosa che mi avete chiesto e vi è inquisito parecchio, ovvero unicchiamo insieme due recensioni e un confronto di che cosa ci occupiamo? Vediamolo subito ma ci occupiamo di una cosa fighissima, innanzitutto questa Desert Eagle della HFC, bella economica, faremo la recensione e dopodiché la confronteremo con un rivale d'eccellenza, questa, sempre una Desert Eagle ma stavolta stiamo parlando della Tokyo Marui. Me l'avete vista usare parecchio anche in game, mi avete chiesto di fare la recensione e dopodiché faremo anche il confronto fra una pistola che mi sono portato via 60€ e una pistola che ne costa più del doppio. Ne varrà la pena la qualità? Ne varrà la pena di spendere tanto per questa invece che prendere questa? Lo vedremo nei prossimi video, ma adesso questa è una piccola introduzione e godiamoci semplicemente un po' di fuoco con queste due. Bene, allora mi raccomando, non dicate di iscrivervi per vedere il confronto fra queste due bestioline, come avete sentito sono molto soddisfacenti, mi piaccio davvero un sacco, non indicate anche il pollice all'insù e se volete venite a seguirmi anche su Instagram dove vedete un po' di foto di queste e di tutto il resto che combino e tutto il resto delle mie repliche. Dal vostro parvo un salutone e ci vediamo alla prossima!